Musica Amici sportivi, tivosi del Bari, ben ritrovati al nostro appuntamento col bianco e rosso TV Sport. Come era ormai nell'aria la trattativa per la cessione del Bari è fallita. C'è un comunicato diffuso oggi intorno al mezzogiorno da Salvatore Matarese S.P.A. che adesso vi leggerò integralmente. Ci sono dei dettagli anche molto, ma molto interessanti, su quali ci soffermeremo. Lo faremo anche con l'amico Giancarlo De Pepo che è un avvocato, quindi magari ci darà qualche raguaglio su quelli che potevano essere in questo momento, quelli che sono stati passaggi di questa fase finale della trattativa. Allora, intanto vi ricordo che per intervenire c'ero 080 501 9998, ma adesso io direi che è molto più interessante leggere con un po' di calma Cosa c'è scritto in questo comunicato diffuso dalla Salvatore Matarese S.P.A.? Cos'è accaduto? Ricordiamo che la Salvatore Matarese S.P.A. ha emesso questo comunicato perché detentrice del pacchetto azionale della S.Bari. E ieri ha ricevuto una richiesta di proroga da parte di Barton a proposito sia del pagamento della caparra sia per la definizione del preliminare, il perfezionamento del preliminare. Allora, la Salvatore Matarese S.P.A. rende noto che in dato ieri è stata comunicata a JMJ Holdings l'interruzione della trattativa per la vendita della partecipazione azionaria di maggioranza dell'associazione sportiva Bari S.P.A. L'esito negativo della negoziazione è dovuto al mancato versamento da parte della JMJ Holdings della caparra confirmatoria entro il termine del 30 settembre 2009, così come espressamente pattuito nel contratto preliminare sottoscritto tra le parti in data 18 agosto 2009. Le parti erano addivenute alla stipula del contratto preliminare dopo una lunga negoziazione iniziata sin dal mese di giugno è perfezionata dapprima con una proposta scritta della JMJ Holdings in data 4 agosto 2009, poi con una lettera di intenti firmata in data 6 agosto 2009 ed infine con il citato contratto preliminare sottoscritto in data 18 agosto 2009. Nel corso dell'incontro tenutisi in Milano il giorno 28 settembre 2009, a soli due giorni dalla scadenza del termine pattuito per il versamento della caparra confirmatoria, la società acquirente ha richiesto una proroga dei tempi per la finalizzazione della trattativa. I rappresentanti della società venditrice hanno manifestato la volontà di concedere la proroga dei termini e fino anche alla possibilità di modificare consensualmente i patti contrattuali già sottoscritti, ma solo in presenza del pagamento della caparra confirmatoria, quale inequivocabile segno di concreto interesse all'acquisto della società sportiva. In pratica, Mattarisi avrebbero detto, noi possiamo anche cambiare un po' le cose, ma voi questo milione di Euro ce lo dovete dare come titolo di caparra, perché è un segnale forte del vostro interesse poi ad andare avanti nell'operazione. Non è solo un segnale forte, è un obbligo dal punto di vista giuridico, perché il nostro ordinamento attribuisce al contratto preliminare l'obbligo giuridico a entrambe le parti di concludere poi il contratto definitivo. Andiamo avanti. Con nota trasmessa in data 30 settembre 2009, la GMJ Holdings ha richiesto una proroga di giorni 60, quindi la proroga era di due mesi, non di un mese come qualcuno ha detto nei giorni scorsi, per il completamento della due diligence e per l'eventuale perfezionamento della vendita della S.Bari. Nella stessa comunicazione, GMJ Holdings ha altresì sottolineato che a partire da tale momento, e attenzione questo è un passaggio molto importante, gli unici soggetti abilitati a esprimere la volontà della società acquirente sono solo Mr. Burton e i suoi legali incaricati, come direi che Mora dal 30 settembre è esautorato, cioè non ha la possibilità di interloquire. E qui si capisce anche il nervosismo di Mora e alcune dichiarazioni rese anche ieri proprio su Telebari e Radiobari. Dopo attenta analisi, non è stato ritenuto ragionevole concedere alla GMJ Holdings ulteriori proroghe dei termini, sia per il lungo tempo già trascorso dall'inizio della trattativa, sia per il mancato rispetto degli impegni assunti con il preliminare di vendita, ed infine per non disturbare ulteriormente la squadra e tutto lo staff tecnico impegnati nel campionato di calcio di Serie A. La Salvatore Mataresi S.P.A., pur nel difficile contesto economico nazionale, continuerà ad assicurare tutto il sostegno possibile alla squadra della città di Bari, confermando al contempo la propria disponibilità alla cessione della società sportiva. Firmato Salvatore Mataresi S.P.A. Questo quanto dovevamo dirvi, l'attesa lettera arrivata, lettera che interrompe, chiude la trattativa, trattativa che fallisce, direi anche in modo clamoroso, per quelli che erano stati i segnali che invece erano giunti nei giorni scorsi. C'è Giorno Micollinia, pronto?